Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Parli inglese e la mamma mi dice sempre oscorsa 2 pete da 10 kg Una delle tre più belle che ho visto in tutti questi anni La tua tipano background Può felice di ascoltarle? Vai! 3 polso quante volte? 2 tipo ok ok l'ultima volta per incertarti ora? dita descrivi la sensazione un tocco più un sole si cosa? un solego un mezzo tocco sul solego non so un mezzo ok apri gli occhi e allora potranno dire che quello che è successo troccavati troccavati è abusato però troccavati poi ci siamo messi a guardo ovviamente erano dei tocchi vecchi non era proprio a che si stessa hai giocato una volta e poi da lì hai iniziato a giocare arti e ti sentivi tutto quello che diceva l'articolo ma io mia madre veniva in una chiesa bro se vuoi si è sconsacrata è vero? si può vedere? certo è vero fatemi una clip no ti giuro ma che tocchi sentiti? è digitale veramente è digitale è digitale è digitale responsabile non è vero perché io io cura il serpente di serpente e miniatura assurda basta io direi che ringraziamo è stato lui si riporta paris ma bravo tu che verso poi l'unico ore 22 aspetta il cantante ha detto ah ok 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 lui entra dopo noi siamo più terra terra io sto a dormire ci sta mi imparante che arriva a 44 440.000 come fare ok ok stop 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 porco dio porco dio porco dio sei menuto sei menuto mi avevo fin di mente un un pane ok c'è anche un tele occhio occhi ti sto per bagnare ti sto per bagnare ma tu di dove sei? squirtor ah dopo cos'è che si 50 cosa 50 50 aspetta aspetta ma non hai visto come lo succhia no lo succhia a scadella a scadella a scadella arriva subito a scadella un attimino prima di farmi cadere un altro bicchierre e qua c'è un bicchierre vai bagnare tu la dedica posso pizzi grebbe come fa prossimo chitona preparati a ringraziarlo ringrazio come fare xiii manprì si ma ringrazio un doppio no no eh fube eh vabbè vabbè eh 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 ok eh 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 lo guardiamo solo noi lo guardiamo solo noi non vuole solo noi non vuole salse tutto? non vuole salse tutto? piacere eh sono i capelli forse togliami sui peccati piacere no ecco facciamo la magia sì guarda ora piange ora piange no che lo stai dicendo? eh non è molto convinto mi faccia scoperta mi faccia un po' schifo? no ma non è molto convinto secondo me sui capelli? no adesso no magari non vale una più confidenza l'ho già visto eh no no piccolo ma ragazzi io so trattarli molto bene no dov'è il canto? quanto è cresciuto? quanto è cresciuto? quanto è cresciuto? però tu hai visto un po' eh sì però tu vedino come fai per me? papà è ferma tu sui celari? sì con te con te con te come fai per me? no 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 guarda Paoli guarda è stato lui dai vieni scusa vieni scusa vieni scusa mi vuoi che ha fatto la tua mamma? sì ti porta a Paridu sì però è brava anche tu mi stai simpaticissima no no aiuto potevo richieste? grazie mille Paolina 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 via e io la bronchite sapevo ecco perché ma cosa che è perfetto il momento di fronte al list vai vai queste cose mi divertono Mi ha chiamato, calma Io ero a fare la doccia Adesso ci pensiamo io Io parlo io un attimo Eh, vabbè, niente Stai scherzando Vigigina No, aspetta Amore mio, domani andiamo a Parigi No, aspetta, Virginia, scusami Un po' di scopo Non mi spiace No Sei venuto, eh? Madonna che schizzo, bro Scusate, eh? Squirtle Squirtle, sì, capito No, squirtle, è un po' Ti giocava ai Pokémon, Polina? No Allora, vediamo insieme La macchina di Tiago Questo di sicuro andrà davanti Eh sì, così va indietro Così va avanti Tiago Guarda chi c'è Guarda chi c'è ой Non c'è nessuno, siamo noi, siamo noi, non c'è nessuno, lo so, lo so, è matto, siamo noi, siamo noi, non c'è più. Sì, no, loro due fuori un attimo, arriva subito. Eh, devo sistemare un paio di robe. Sì, un attimino. Sì, un attimino. Beh, ringrazia almeno a Paolina. Paolina, se volete segarvi su di lei. No, è Paolina, sei io. Come fare? Esatto. E scadete se volete. Cina, maggiore, 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 maggiore. Sempre. E... Addio. Addio. Allora, Max. Oh, tu sono ne vieni più di merda. Basta, dove ci siamo? Cosa è? Cosa è? Cosa è fatto? Ha fatto così. Eh? Cosa è fatto? Cosa è fatto? Cosa è successo, chat? Chat, quella è successo? È facile? Scusa. Eной.